Il suo amore per Napoli, per il dialetto e per la cultura partenopea è ormai arcinoto ed è certificato dalle collaborazioni con artisti che di questa cultura sono tra i maggiori interpreti come Enzo Gragnaniello e Gigi D'Alessio. Arisa ha scelto a Gerola, in particolare il belvedere del Parco della Colonia Montana, con vista privilegiata sulla costa d'Amalfi e sui faraglioni di Capri, come luogo incantato dove celebrare le sue nozze con la Dea Partenope in questa calda estate 2021. Ma diciamo che Napoli è una parte del mio cuore, non per essere banale o per dire frasi fatte, effettivamente è così perché è la parte più rappresentativa del mio sud, nel senso che io vengo da Potenza e quindi la città più grande, quella da cui si prendevano un po' i detti anche tra noi ragazzi. L'artista Lucana, che non ha bisogno certo di presentazioni, è un'altra big della musica italiana ad esibirsi sul palco del Festival Sui Sentieri degli Dei, in uno degli appuntamenti più attesi dell'intera Kermess. Siamo contenti di poter annoverare un nome così prestigioso della musica italiana all'interno del cartellone del Festival Sui Sentieri degli Dei. Non era mai stata la Gerola ed è rimasta veramente entusiasta di questo ambiente, di questo scenario, di questa bellezza naturale sconfinata e ha provato a rappresentarmi la sua voglia di tornare. Ecco, questo è il Festival a Gerola Sui Sentieri degli Dei. Arisa si presenta a questo appuntamento con il tour Ortica, dal nome della canzone che parla d'amore attraverso un testo che mescola napoletano ed italiano, in un linguaggio di tolleranza e di buoni sentimenti. Mia madre, tra l'altro, è aviglianese, che è un paese della Basilicata dove si parla un dialetto molto simile a quello napoletano, quindi io quando vengo a Napoli mi sento molto a casa e non mi viene difficile cantare e scrivere napoletano. Reduce da importanti esperienze televisive, la cantante presenta live i suoi ultimi successi, tra cui Psaico e il brano Sanremese Potevi fare di più, insieme alle più amate canzoni del suo repertorio, in nuovi addangiamenti. A Gerola è orgogliosa di poter sfidare artisti di questo calibro sempre più insistentemente, avendo un riscontro di critica, di pubblico, di televisione, di giornali, incessante giorno per giorno ed è orgogliosa di poter annoverare una delle voci più belli della musica italiana contemporanea tra i suoi amici.